E' una polemica che non ha ragione di esistere. Così il sindaco di Sciacca replica le dichiarazioni del collega di Ribera e alla polemica innescata per la concomitanza della notte del carnevale domani sera con l'inaugurazione della sesta edizione del Pizza Fest. Non mi aspettavo, aggiunge Fabrizio Di Paola, una sortita del genere perché non ci sono proprie presupposti per sollevare una questione che è stata creata eppure ingigantita oltremisura da Carmelo Pace. Una reazione esagerata dunque per il sindaco di Sciacca della quale si dice dispiaciuto anche perché è precisa per quanto ci riguarda non abbiamo disatteso alcun accordo. C'è solo un'intesa, sostiene, tra tutti gli amministratori del territorio finalizzata ad evitare nei limiti del possibile la coincidenza nelle stesse date di grandi eventi ma non è questo il caso. La notte del carnevale, programmata già a maggio, dice Di Paola, si esaurisce in una sola serata e sarà una sorta di revival di un grande evento che si è già svolto nel mese di febbraio, contrariamente al Pizza Fest che si articola in nuove serate con ospiti vari e ognuno con un proprio pubblico. Avrei capito la presa di posizione, sostiene ancora Di Paola, nel caso in cui avessimo organizzato una settimana di carnevale estivo in concomitanza con i nove giorni del Pizza Fest. Il sindaco di Sciacca non ha poi gradito e lo ha messo nero su bianco nel comunicato stampa di oggi il fatto che il collega Carmelo Pacio abbia sottolineato il sostegno dato dal suo comune alle battaglie relative all'ospedale piuttosto che al tribunale o alle terme di Sciacca. È un collegamento improponibile, ha dichiarato Di Paola, che non si dovrebbe proprio evocare per rispetto dei nostri concittadini e delle istituzioni che rappresentiamo. Anche l'assessore allo spettacolo, Salvatore Monte, tirato in ballo ieri da Carmelo Pacio e ritenuto responsabile del mancato rispetto dell'accordo e non accavallare alle due manifestazioni, replica oggi alle dichiarazioni del sindaco di Ribera, sostenendo che la notte del carnevale non è un evento che può, di conseguenza, togliere pubblico al Pizza Fest. Non è il carnevale di Sciacca, il carnevale di Sciacca si celebra a febbraio, quindi io credo che considerare la notte del carnevale un grande evento che possa nuocere il Pizza Fest è completamente sbagliato, siamo fuori binario. Monte avanza poi una proposta all'amministrazione riberese per chiudere le polemiche delle ultime ore. Io quello che posso dire è che mi dispiace senza ombra di dubbio, però credo che forse l'obiettivo che Carmelo Pacio voleva raggiungere lo ha raggiunto. C'è grande pubblicità perché è da due giorni che ne parliamo e quindi in conseguenza la gente sa che c'è otto giorni di Pizza Fest e che ci sarà una serata dedicata al carnevale a Sciacca. E io quello che voglio dire è questo, siccome noi non siamo, come ho scritto ieri su Facebook, né Capuleti né Montecchi, io sono disponibile, dopo aver sentito i gruppi del nostro carnevale, a dire a Carmelo Pacio che siamo disponibili ad animare una serata del Pizza Fest con i gruppi del carnevale di Sciacca e che quindi potrebbe essere anche un modo simpatico per far pace. Quindi siamo disponibili come Carnevale di Sciacca, con i nostri gruppi che ho già sentito, a recarci al Pizza Fest e a fare un po' di manicomio carnascialesco.